Assessore Filipponi, è il caso di dirlo, finalmente riapre la piscina comunale, è stato trovato appunto il gestore, quali saranno le tempistiche, quali saranno anche i lavori da fare sull'impianto? Sì, diciamo che l'ATI che si è giudicata alla gara, erano quasi sette mesi che doveva firmare il contratto, siamo riusciti a velocizzare questa procedura e finalmente ieri siamo arrivati alla firma. Già questa mattina c'è stato il sopralluogo nella piscina, quindi a brevissimo, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione che permetteranno per la metà di settembre o al massimo fino a fine settembre la riapertura. Siamo soddisfatti di questa accelerazione che c'è stata sia per il lavoro degli uffici sia per il lavoro che ha svolto l'ATI che ha permesso appunto la firma. Non era semplicissimo, comunque c'è stata la volontà di tutti di riaprirla questa piscina. Un momento anche delicato per quanto riguarda gli impianti sportivi, qualche giorno fa lo aveva detto anche in conferenza stampa riguardo l'Adriatica Press Teramo Basket, la questione appunto del Palas Capriano. Anche qui le chiedo come è la situazione, ci sono appunto soluzioni in vista? La situazione del Palas Capriano è la situazione più complessa, perché? Perché è l'impianto che costa di più alla nostra città, ci sono circa 200 mila euro di utenze, incide moltissimo il gas e i costi di riscaldamento. La nostra città in questo momento non ha queste risorse per aprire quell'impianto, quindi dobbiamo trovare dei modi alternativi e intelligenti per far sì che quell'impianto possa riaprirsi. Ci sono diverse strade, stiamo lavorando affinché si possa comunque riaprire intanto per le partite della Teramo Basket e le partite casalinghe. Speriamo di riuscirlo a riaprire anche per gli allenamenti della Teramo Basket, facendo in modo che gli altri impianti dove la Teramo Basket si sta allenando possano essere liberati a favore di altre società sportive. effettivamente abbiamo grosse difficoltà sugli impianti sportivi perché tante sono le società che hanno bisogno di impianti e magari l'offerta in questo momento è bassa anche a causa del terremoto che c'è chiuso un paio di impianti. Quindi stiamo lavorando tantissimo per affrettare le riaperture anche perché le stagioni sportive stanno iniziando e bisogna correre.